Buonasera a tutti, sono il compagno prof Daniele Dandini, che si suona una canzone. Andiamo! Va, two, three... Aspetta, ci sei? Sì. No, aspetta, ne abbiamo perso tre. Vai, prima si fa senza petto. E poi con le. Pronti ragazzi? Vai, andiamo. Va, two, three, go! Aspetta. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.